Ogni volta che faccio questo video dietro di me si creano un sacco di book haul, anzi forse quest'anno si vede poco, ma la mia libreria è stata svuotata perché è arrivato il momento di fare il mio annuale book haul check-in. In cosa consiste questo video? Nel riguardare i miei vecchi book haul, in questo caso tutti quelli che ho fatto nel 2023, e vedere quali libri ho letto e quali ancora no, e farmi un bagno di umiltà in sostanza. Quindi, iPad dalla mano per segnarmi quale ho letto e quali no, e a fine video farò un conto, una statistica. Devo dire che non riesco a rendermi conto di quanti effettivamente ne ho letti, quanti ne ho comprati, gli anni scorsi ero intorno al centinaio, ne ho letti più o meno la metà, devo dire che quest'anno ho un po' timore. Il primo book haul che andiamo tra virgolette ad analizzare è quello di febbraio 2023, e quindi comunque comprende i libri che ho comprato negli ultimi mesi del 2022. Sto iniziando a fare difficoltà con gli anni. Mi sono dimenticata di specificarlo, tirerò su i libri che ho fatto vedere in quel video, e vi dirò se l'ho letto o no, senza reagire direttamente al video, mi sembra un po' più dinamico in questo modo, poi se è noiosissimo chiedo scusa. Ma appunto iniziamo con il primo libro del book haul di febbraio dell'anno scorso, in cui avevo fatto vedere The Love Hypothesis di Ali Acerwood, che purtroppo ho letto, l'avevo letto anche prima però di fare il book haul, non mi è piaciuto, però almeno l'ho letto. Sorprendentemente subito dopo ho una carrellata di libri in francese, che è una cosa che non faccio spesso, ma che mi fa piacere vedere, un po' meno piacere il risultato, perché ne avevo presi due di Amalino Tom, avevo preso I nomi epiceni e gli aerostati, e ho letto solo gli aerostati, quindi uno e uno. E poi avevo preso La bestia umana di Zola, che non ho ancora letto purtroppo, e nemmeno Arsenio Lupin. Questo diciamo l'avevo preso perché me l'ero dimenticato quando ero stata in vacanza... Madonna, è già passato così tanto tempo? Quando ero stata in vacanza in Francia, a Parigi nel 2022, mi sono dimenticata di cercarlo, quindi quando l'ho visto in libreria mi ricordo che ero rimasta molto contenta, l'avevo preso, era stato un po' un acquisto impulsivo, però effettivamente questi due non li ho letti, male. Ma qui è una tragedia! Altro classico che avevo preso in quel periodo e che non ho ancora letto, Via col vento. Sono sicura che mi piacerà tantissimo, però non ho la testa in questo momento da investire in un volume del genere, quindi purtroppo al momento siamo 4 a 2. E qui inizia il divertimento, perché c'è la carrellata dei libri che ho fatto per il mio calendario dell'avvento fai da te, in cui nel corso praticamente dei 10 mesi precedente da febbraio 2022 a dicembre ho raccolto libri con sconti, promozioni, quando avevano un prezzo vantaggioso, gift card, insomma in tutti i modi che ho potuto, per crearmi un calendario dell'avvento fai da te, che mi aveva incartato Andrea, e insomma io scartavo un libro al giorno. Bella idea, non la farò mai più perché appunto ho accumulato tantissimi libri e adesso cercheremo di capire com'è andata. Spoiler! Poteva andare meglio! In realtà non mi ricordo se Via col vento era incluso, mi sa che non era riuscito ad arrivare in tempo perché lo contassi nei libri, quindi mi sa che ne avevo presi altri... vabbè, non mi sembra fosse incluso, quindi credo che proprio questo sia il primo che faceva parte del calendario ed è Il conciliatore di Brandon Sanderson che sorprendentemente però ho letto. Ok, ci troviamo in una situazione nuova perché per la prima volta da quando faccio questi video i libri di cui devo parlare non li ho più, non li ho più perché li ho da poco venduti su Vinted, quindi gli otto libri della Folgoluce, La Via di Re, Parola di Luce, Il conciliatore e... basta perché il ritmo della guerra in realtà era in un book haul precedente. Allora i sei libri della Folgoluce che appunto erano i primi tre volumi divisi in due nell'edizione flessibile economica in inglese, li ho venduti su Vinted per fare un cambio edizione, non vi preoccupate, voglio ancora leggere la Folgoluce però di fatto non li ho, quindi per l'interesse di questo video credo di non contarli in nessuna delle due pile perché ancora non ho comprato quelli nuovi ma non ho più quelli che avevo fatto vedere in questo video quindi mi sono salvata sei volumi dritti dritti nei non letti non l'ho fatta apposta, giuro che non l'ho fatta apposta non mi salvo però dal mettere in non letti il secondo e il terzo volume della tetralogia fantascientifica per ragazzi sempre di Brandon Sanderson, il primo è Skyward avevo preso Starsight che ho trovato tipo a 5 euro, mi ricordo che ero rimasta felicissima e Scytonic, questi non li ho letti perché di Sanderson ho iniziato prima il lato fantasy rispetto a quello fantascientifico però devo dire che ogni volta che li vedo mi viene un sacco di voglia di leggerli quindi forse dovrei a lato piano piano iniziare anche questi però non li ho ancora letti purtroppo come in realtà non ho letto neanche questi tre volumi del graphic novel credo si chiami, bastava chiedere in italiano sono La Charge Emotionnelle, A Notre Regarde 1 e 2 di Emma sono graphic novel femministi io devo ammettere che questi sono finiti in basso nella libreria e un po' in un pertugio mi sono completamente dimenticata di averli mea culpa però effettivamente questi sono tre che vanno anche qui dritti dritti nei non letti riuscite a capire perché non farò mai più un calendario dell'avvento poi in realtà sono anche stupida perché quelli sono comunque poco densi a livello di testo e li leggo in mezzo pomeriggio quindi comunque recupererò presto piccola pausa per recuperare i caduti letteralmente continuiamo non benissimo comunque perché due libri di Simenon La Peppa di Maigret e Maigret si diverte credo neanche questi letti ho ricominciato da poco a leggere Simenon quindi prima o poi insomma lo vedo un po' più nel futuro prossimo ma non li ho ancora letti La Chimera di Praga di Laini Taylor anche questo purtroppo non l'ho ancora letto aiuto nemmeno Camere Separate di Tondelli che è apparso in una TBR quest'anno ma devo dire che non credo di essere abbastanza stabile a livello emotivo per leggerlo quindi purtroppo dovrà aspettare ancora un po' quindi neanche questo libro l'ho letto stesso destino per Vita e Destino di Vasily Grossman devo dire che questo l'avevo comprato perché mi piaceva questa edizione grossa comunque molto leggibile a livello di font, di spaziature, di margini e stava per uscire l'edizione economica e quindi volevo sbrigarmi appunto a prendere questa edizione non era in programma di leggerla nell'immediato infatti non è stato così nemmeno lui ho letto, nemmeno i tre moschettieri di Jumaa ero mega infissa dopo aver finito il Conte di Monte Cristo quindi ho detto sì dai prendiamolo che figo lo leggo subito no, non l'ho letto subito non vorrei allarmare nessuno ma al momento siamo 15 a 3 spero che con i prossimi arrivi il comeback infatti Stazione 11 di Emily St. John Mandel l'ho letto dai ho letto anche queste gioie violente di Chloe Gong come ho già letto anche gli ultimi tre libri che compongono insomma i tre novelle, insomma i tre volumi in questo caso però contano, vabbè che compongono la saga del tensorato e gli ultimi due volumi della trilogia delle ossa verdi che è iniziata con Jade City, Jade War il secondo e Jade Legacy l'ultimo che è comunque anche un bel mattoncino quindi bravami almeno questi li ho letti che bella questa saga ogni volta che guardo questi libri penso a quanto mi piace piano piano ripopolo lo sfondo i prossimi mi sembra fossero libri che ho comprato con regali di Natale quindi partendo da io che non ho mai conosciuto gli uomini di Jacqueline Hartman l'ho letto e mi è piaciuto molto mentre purtroppo non ho ancora letto le sette morti di Evelyn Arcasson questo veramente mi dispiace perché mi attiva tantissimo però mi continuo a dimenticare, a rimandare, a mettere altre cose prima quindi purtroppo lui ancora mi manca The Long Way di Becky Chambers l'ho letto una delle prime letture di quest'anno per fortuna mentre purtroppo ancora non ho avuto il coraggio di approcciarmi a Octavia Butler di cui avevo preso Kindred e Don che è il primo di una trilogia questo è un autoconclusivo credo che questo si chiami Legame di Sangue e questo dovrebbe essere l'ultima genesi in Italia sono pubblicati da Orania se non sbaglio comunque purtroppo ancora non ho una sorta di timore reverenziale nei confronti di questa autrice quindi iniziare devo prendere coraggio poi abbiamo Crooked House di Agatha Christie che avevo preso in questa edizione perché l'hanno man mano nel tempo cambiata e siccome io li ho tutti in questa edizione volevo mantenerli tutti uguali ma non l'ho ancora letto quest'anno di Agatha Christie ancora niente ma spero di rimediare presto abbiamo poi uno dei libri di cui ho parlato più volentieri l'anno scorso che è Get Alive Chloe Brown che avevo preso un po' come scherzo da leggere per un video e invece mi è piaciuto tantissimo quindi sì vabbè questo l'ho letto pazzesco brava me ce l'ho letto tipo subito l'ho comprato è arrivato e l'ho iniziato cosa che succede veramente pochissimo avevo poi preso entrambi i volumi Raybearer e Redemptor che fortunatamente nel frattempo ho letto entrambi e questo mi serviva cioè questo mi ero sbrigata perché insomma c'era l'autrice al salone infatti sono entrambi stati autografati anche nel frattempo e poi mi ero presa il primo volume di Blackwater che in quel momento battage pubblicitario assolutamente ovunque non si riusciva a aprire un social senza vedere questi libri quindi ero caduta vittima del marketing e avevo preso il primo che però comunque nel frattempo sono riuscita a leggere allora poi abbiamo Spy Family che penso io avessi comprato da aver letto il primo volume mi è piaciuto il primo volume quindi l'avevo comprate tipo dal 2 al 9 che credo di aver comprato nel frattempo sì mi sembra che è così quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 li ho letti tutti non ve li tiro fuori perché sono di là e non ve li farei mai vedere uno a uno però li ho letti tutti come ho letto anche l'altro manga di cui ho parlato quel video che è Free Ren 9 credo di averlo letto poco dopo aver girato quel video perché credo sia l'unico che ho letto nel 2023 di Free Ren però l'ho letto sono sicura perché sono praticamente in pari quindi sono sicura che l'ho letto e chiude questo primo book haul Jay Kristoff con l'edizione inflessibile dell'impero dei dannati io ogni volta che vedo questa edizione un pochino cringio non mi piace per niente però ce l'ho tutti in questa edizione e quindi purtroppo me la devo accollare però l'avevo vabbè l'ho già letto l'avevo letto anche prima che mi arrivasse però effettivamente questo è un libro che ho letto allora devo dire che grazie al soccorso dei manga la situazione si è ribaltata quindi piccola pausa per mettere in ordine un po' di roba perché se no non riesco ad arrivare ai libri il prossimo book haul e prossimo book haul ok passiamo al secondo book haul quello che ho fatto a maggio dell'anno scorso il book haul primaverile è proprio la definizione di non adagiarti sugli allori perché il primo libro che non trovo eccolo è Mexican Gothic di Silvia Moreno Garzia che l'ho trovato a pochi euro devo dire potevo leggermelo in questo periodo perché comunque autunno spooky però sinceramente non credo che lo farò ho voglia di leggerlo cioè non è uno dei quei libri che poi sono finiti lì e mi è scesa la voglia ho voglia di leggerlo però non ci boh non l'ho letto abbiamo poi brevemente risplendiamo sulla terra di Ocean Wong che non ho letto neanche questo questo l'avevo preso come tipo ricordo del mio weekend a Barcellona però non l'ho ancora letto tra l'altro è stampato malissimo cioè qua sopra c'è ancora la segretatura di quando l'hanno staccato dalla pressa suppongo è stampato tutto storto vabbè si continua con due libri che ho preso con la promozione della Lazio Youth Card quindi non pagandoli in realtà il mare non bagna Napoli e fa Flatlandia nessuno c'è non li ho letti questi veramente li ho comprati solo per approfittare della promozione con l'idea che li avrei letti avanti e quindi niente altri due nella pila dei non letti vedi che mi sono rilassata così imparo l'uomo nell'altro castello di Philip Dick neanche questo e nemmeno Un giorno di notte cadente di Samantha Shannon che devo dire sono curiosa perché hanno detto tutti che è bellissimo meraviglioso meglio del priorato però a me il priorato era piaciuto il giusto cioè nel senso non era un brutto libro ma non mi aveva fatto impazzire quindi sono un po' diciamo poco portata a iniziarlo però niente questi sono altri due nella pila dei non letti posso dire che è grande tragedia questo inizio non ne sto infilando una sempre per il non lo tiro fuori avevo preso anche il decimo volume di Spy Family quindi fortunatamente abbiamo il primo letto di questa carrellata perché sta andando veramente allo scatafascio la situa altro diciamo buona intenzione che non è andata devo ammettere che qui io mi sono un po' fatta non vincere dalla copertina però Song of Silver Flame Like Night di Emini Vanzau non l'ho ancora letto purtroppo ogni volta che faccio questi video vorrei tagliarmi le mani e non comprare più niente altro manga che avevo preso in quel periodo non mi sembrava di averlo preso così tanto tempo fa però evidentemente sì è Girl from the Other Side per caso assolutamente fortuito ho letto proprio qualche giorno fa quindi ci siamo poi abbiamo Red di Christian Gier un po' un throwback ai fantasy del 2012 che non ho ancora letto devo dire un po' voglia cioè nel senso sono molto curiosa perché me ne hanno parlato molto bene soprattutto considerando il periodo in cui è uscito però non ho ancora avuto l'istinto di iniziare quindi niente abbiamo poi uno dei miei grandi amori a livello romance Emily Henry booklovers questo l'ho letto come ho letto anche Finding Me di Viola Davis non mi ricordo se l'avevo già letto quando mi era arrivato la copia cartacea probabilmente sì però comunque questo l'ho letto niente si ritorna subito su la vergogna meme estetica e interregno non li ho letti sono dei libri di saggistica su diciamo il linguaggio dell'internet anti-meme non lo so mi interessa pure come argomento però ancora non ci sono no poi abbiamo Les Enchantments d'Ambre Omer e Take a Hint d'Annie Brown che mi sono presa per Pasqua diciamo mi sono fatta un pensierino per Pasqua fortunatamente questi li ho letti entrambi un'uscita per cui ero abbastanza emozionata dell'anno scorso era stato qui solo qui di Cristel Dabos questa lezione in francese che ho comprato letto diciamo questa non sarebbe durata molto nella villa dei non letti e poi qua c'è il periodo un po' pazzerello perché stava chiudendo Book Depository quindi ho fatto un ordine diciamo di saluto in cui magari mi sono concessa cose che avrei aspettato razionalmente a prendere però devo dire che pensavo peggio perché c'è The Final Strife che ho letto Act Your Age It Brown che ho letto e You and Me On Vacation che anche questo ho letto l'unico di quell'ordine che non ho letto è Elantris diciamo questo non è il libro di Sanderson per cui sono più emozionata però per completezza penso che me lo leggerò comunque più avanti cioè non è un di quelli in priorità alta se ha senso però 3 a 1 sempre per lo stesso discorso di cambio edizione io ho preso Cart in Tawel di Agatha Christie che non ho ancora letto avevo con poca difficoltà reperito anche In The Lives of Puppets di TJ Klune che ho letto e The Adventures of Amina al-Sirafi che ho comprato perché mi stava piacendo così tanto in digitale che non potevo stare senza una copia fisica però l'ho letto meno male ho comprato di più ma mi sembra che sto leggendo un po' di più le ultime parole famose e qui arriva la coda di questo video cioè questo video è stato un panino di cose vergogna soddisfazione e ritorno alla vergogna perché questi sono i libri che ho preso al salone del libro e come ogni fiera che faccio compro presa dall'entusiasmo perché mi raccontano questi libri che sono bellissimi cioè che ho ancora voglia di leggere e poi rimangono lì cioè tipo quelli di più libri più liberi del 2021 stanno ancora là quasi tutti non ci vado più alle fiere se vado alle fiere non compro niente guarda perché ci sono i primi due volumi di Legendborn e Bloodmarked che vorrei leggere è una saga di cui ho sentito solo cose positive ma che non ho ancora iniziato anche perché un po' stavo anche aspettando qualche notizia sul terzo e quarto e ora che le abbiamo forse è il caso che io inizi abbiamo Membrana che non ho letto Spezzate che non ho letto Il mondo in un carrello di cui a quanto pare ho letto il primo capitolo perché c'è il pezzettino qua vabbè ma che non ho finito quindi non lo conto come letto L'amore degli uomini soli che non ho letto Giorno di vacanza di Ines Cagnatì che non ho letto poi sono pure libri brevi che problemi ho E gli uomini muoiono e le donne invecchiano di Isabelle de Sesquel che non ho letto tra l'altro questo il concetto mi fa impazzire me lo ricordo ancora eppure vado a fare un attimo di raccoglimento dopo questa umiliazione però veramente alle fiere non copro più niente e basta Terzo book haul questo è un po' più contenuto perché di solito mi capita abbastanza di frequente che tipo impazzisco compro un sacco di roba mi sento in colpa smetto di comprare Si tratta del book haul estivo che è uscito a agosto dell'anno scorso e direi di partire subito con il primo libro che è Kay Kay di Vaishnavi Patel che non ho ancora letto arriverà tra l'altro in italiano nel 2026 mi sembra però purtroppo ancora non non l'ho letto anche questo mi dispiace perché è una mitologia diversa che vorrei affrontare e niente purtroppo no abbiamo poi un libro che non vedo l'ora di dar via ed è The Unbroken di C.L. Clark che ho letto e che non mi è piaciuto per niente un libro che non ho qui con me che però ho letto è Il figlio sbagliato di Camilla Lekberg per poi passare invece ai libri che mi hanno regalato da Edizioni EO quando mi hanno contattato perché sono stata la prima persona a recensire qui solo qui in italiano quindi mi hanno voluto regalare una copia io qua sono un po' in difficoltà su come contare questo libro perché in realtà l'ho già letto so già che succede però non ho letto la traduzione in italiano quindi è un sì è un no non lo so forse per levarmi dall'impaccio non lo conto in nessuna delle due pile quindi sì vabbè diciamo facciamo finta che questo non esiste mentre invece gli altri libri che sono stati così gentili da regalarmi assolutamente non dovevano cioè io ero andata lì per cui sono qui e invece mi hanno fatto una sorpresa e me ne hanno regalati anche altri li ho letti tutti ho letto Servirsi che purtroppo non mi è piaciuto ho letto Fabio Bartolomei 18 anni 10 giorni e Morti ma senza esagerare in realtà è il contrario questo è il primo e questo è il secondo della tetralogia della famiglia mi sono piaciuti molto soprattutto il primo comunque bene perché ce ne sono questi sono tre nella pila dei letti subito si ricade con due libri di Carrère che non ho ancora letto l'avversario e Limonov però devo dire che veramente avevo letto da poco vite che non sono la mia che per me c'è un prima e un dopo c'è un prima vite che non sono la mia e un dopo e nelle settimane subito dopo ho deciso di leggermi qualsiasi cosa questo l'avevo comprato quando ero stata a Parcellona a trovare mio fratello per il suo compleanno e questo l'ho comprato tipo alle 4 di mattina mentre avevo 38 di febbre però purtroppo ancora non li ho letti è comunque nella mia intenzione di recuperare quanti più Carrère possibili ma al momento non sono ancora arrivata loro due i prossimi sono i libri che ho comprato in Portogallo pensavo di aver fatto un po' medio devo essere onesta e invece no però ho preso L'anno della morte di Riccardo Reis di Saramago e Storia della serie di Lisbona purtroppo quest'anno in portoghese non ho ancora letto niente e di questo un po' mi dispiace perché comunque non vorrei dimenticarmi la lingua è chiaro che è un po' più impegnativo a livello mentale quindi magari quando voglio riposarmi non ho l'istinto di prendermi un libro in portoghese non ho letto nemmeno Ilusiadi di Camois che è in questa edizione speciale della libreria Lello che però questa l'ho comprata un po' come tipo trofeino è come se decidessi di leggermi le neide però vabbè no non l'ho letto come non ho letto neanche Dreamers Pool in inglese credo si chiami di Juliette Maridier questa è la prima il primo volume di una trilogia che è introvabile in portoghese cioè tipo c'è il primo volume da qualche parte ok ma il secondo e il terzo veramente impossibili a trovare quindi mi ho detto vabbè intanto lo vedo l'ho trovato mi prendo il primo non l'ho letto cosa ho letto? ho letto Babbel in portoghese l'ho annotato l'ho riletto appunto in questa edizione e sono sono pessima me ne rendo proprio pessima nello stesso periodo mi era arrivata la Lunari con Nella vita dei burattini di TJ Klune è l'edizione autografata e per questo penso che farò un discorso simile a qui solo qui nel senso che l'ho già letto ma non in questa lingua e quindi non lo metto né in una né nell'altra perché in realtà fa parte un po' di tutte e due e quindi non lo conto Babbel è un discorso diverso perché ho intenzione di leggere tutte le lingue in cui è stato tradotto che parlo quindi lì effettivamente c'è una questione di follia perché ho voglia di vedere come hanno approcciato le lingue diverse le traduzioni però per Babbel sto facendo un percorso diverso a livello di ragionamento ecco però questo non lo conterò anche se mi avrebbe fatto comodo avere due in più sulla pila dei letti ma voglio essere integerrima e non voglio barare era finalmente uscito Nona la Nona che ho letto come ho letto anche Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow di Gabrielle Zevin in realtà l'avevo già letto prima che mi arrivasse perché l'avevo letto in digitale ma mi era piaciuto così tanto che ne volevo una copia fisica e quindi insomma si questo l'avevo già letto fortunatamente ve l'avevo detto che questo book haul era un po' più contenuto e devo dire per ora la situazione è abbastanza un testa a testa mi ero dimenticata che in quel book haul avevo preso anche Free Rain 10 che ho letto quindi l'ho aggiunto off screen l'ho aggiunto alla pila dei letti passiamo invece adesso alla pila del book haul autunnale che è di nuovo un po' più consistente perché di solito c'è il mio compleanno banalmente e quindi tra buoni regali appunto ho sempre un po' un influsso di libri maggiore e questo video che è uscito a novembre del 2023 sarà l'ultimo che andrò a analizzare per questo video anche perché porca miseria ho bisogno un attimo di riprendermi i primi due sono due libri di olivi blake one for my enemy e masters of death tra i due mi ispirava più questo e invece ho letto questo quindi questo si e questo no avevo anche recuperato il seguito di lei che divenne il sole he or drown the world che ho letto e che tra l'altro dovrebbe uscire penso il mese prossimo in italiano non sono del tutto sicura io però me lo sono già tolto a novembre dell'anno scorso mi sembra tolto insomma l'ho letto poi siccome mi erano piaciuti così tanti i primi due volumi di fabio bartolomeo ho deciso di prendermi anche gli altri due che ho letto e questa promozione mi faceva approfittare di appunto due libri di direzioni otte ne davano un terzo gratis a cui la vita bugiarda degli adulti e di elena ferrante e ho letto anche questo quindi questi tre letti tutti incredibile a quanto pare mi ero anche fatta prendere all'entusiasmo perché nella stessa seduta nella stessa sessione di shopping mi ero presa anche Bella Donna di Adeline Grace che non ho ancora letto purtroppo né ho letto All That's Life in the World di Eric J. Brown non mi ricordo il nome dell'autore purtroppo nessuno di questi due li ho letti per ora avevo poi preso un libro di cucina mi sembra vegetale insieme di Carlotta Perego che dovrebbe essere cucina insomma che è cucina botanica che per fortuna per questi video non si conta i libri di cucina non li conto non li leggi mai dall'inizio alla fine quello che invece devo mettere nella lista dei non letti Her Majesty's Royal Coven di Juno Dawson che non mi ricordavo di aver preso così poco tanto tempo fa cioè mi sembra che ero comprato nel 2024 invece no però è impressionante che non mi rendo neanche coce nel senso il tempo va così veloce che non mi rendo conto di quanto è passato tra l'acquisto e effettivamente il momento in cui mi siedo qui ad analizzare cosa ho comprato e cosa no ho creato due buchi dietro di me perché non ho letto nessuno dei due libri di Rick Riordan né The King Chronicles né Le sfide di Apollo per fortuna io in genere quando sono così vi conto come un volume unico anche se all'interno sono ben più libri quindi per una volta mi è andata di lusso ma questi sono due che vanno nella pila dei non letti potevano essere molti di più se li avessi comprati in volumi singoli ma al momento sono due nella pila dei non letti un altro libro che sono veramente triste di non aver ancora letto è La luce che manca di Nino Ratishwili che avevo comprato per la presentazione appunto del libro volevo leggerlo quest'anno ma purtroppo non sono riuscita a incastrare le letture però è una lettura che vorrei fare al più presto sicuramente questo l'ho detto di tanti ma forse questo è uno di quelli che ha la priorità più alta avevo poi parlato di altri due libri di cucina quindi stesso discorso di cucina botanica non si contano però purtroppo si conta Wayward di Amelia Hart mi ricordo che l'avevo iniziato ho letto qualche capitolo e poi ho detto vabbè sì sì poi lo leggo non è andata così avevo poi preso Una magia infusa di veleno perché questi libri di cui sto parlando fanno parte della mia sfida di compleanno dell'anno scorso in cui sono andata in giro alla fettrinelli per due minuti ho acchiappato tutto quello che volevo e li ha pagati Andrea che era molto contento di non dover pensare a un regalo però questo non l'ho letto come non ho letto neanche il seguito ovviamente quindi questi sono due non letti non ho letto nemmeno La figlia della foresta di Juliette Marie che vergogna mamma mia sempre così quando faccio questi acquisti così grossi faccio fatica a inserirli non lo so perché non va qualcosa qua sopra e proprio per il discorso di quanto mi è piaciuta la saga di Blackwater il primo ho comprato il secondo e non l'ho ancora letto nonostante appunto sia un libricino cioè non è che dici sai è un mattone no no eppure come non ho ancora letto nemmeno Shanghai Immortal che era l'ultimo regalo di compleanno no beh uno degli ultimi regali di compleanno non l'ho letto il regalo di compleanno che ho letto è Alone with a Windy di Peter di Oliver Blake che in realtà è un mezzo barare perché io questo l'avevo già letto e volevo la copia in flessibile perché voglio rileggerlo ma di base l'ho già letto comunque questo è barare perché l'avevo già letto ma faremo finta di niente nello stesso periodo avevo deciso di recuperare gli ultimi due volumi di Les Saint-Monts d'Ambremer l'Elixir d'Ubli che ho letto Le Royaume Immobile che devo ancora leggere è nella mia TBR penso che lo leggerò veramente a strettissimo giro ma purtroppo per l'interesse di questo video mi ha fregato quindi uno e uno poi avevo come dire un po' di mancanza di Amine Al-Sirafi quindi ho deciso leggiamoci qualcosa dell'autrice in attesa del seguito di Amine Al-Sirafi del seguito non si sa niente ma io non ho letto La Città di Ottone e quindi l'ho messa lì incorreggibile veramente quest'anno ho fatto una tragedia non ho letto nemmeno il libro che mi ero presa gratis da Filtrinelli per il mio compleanno Circe di Madeline Miller non ho non ho scuse non ho più modo di difendermi non conterò il libro di Jasmine Mottola Dolci senza lattosio perché è un libro di cucina di Torti in Su sui social non ho ancora letto nemmeno Brucio la Notte di Tiffany e Michela tra l'altro tra poco dovrebbe anche uscire il seguito quindi forse mi dovrei dare una mossa per fortuna The World We Make di Hank & Jameson l'ho letto almeno questo ma non ho letto Il Maestro Margherita che avevo trovato a un prezzo stracciato ma non l'ho letto cioè questo è proprio quei classici che uno accumula dicessi sì sì più avanti nella vita ma non è adesso il più avanti e poi c'è la carrellata dedicata a Babbel e inizierei con questa edizione in inglese che fortunatamente in inglese l'ho letto questa c'è un po' da collezione se mai dovessi volermi notare qualcosa mi piaceva appunto il fatto che fosse un blocco d'argento per chi ha letto si sa però di fatto in inglese l'ho già letta quindi fortunatamente questa la possiamo mettere nei letti non ho letto quello in italiano che purtroppo facesse un discorso simile ad altri libri questo non lo conterei però posto che li voglio leggere nelle diverse traduzioni per un motivo di appunto confronto questa la devo contare come non letta anche se me ne vorrei vendere prima o poi quando annunceranno la flessibile però di fatto questo va nei non letti e l'ultimo è sempre Babbel però questa volta in francese che sto leggendo e quindi questo deciderò di farmi uno sconticino e di metterlo tra quelli letti perché comunque tendenzialmente appunto è in lettura quindi dovrei finirlo adesso ma almeno l'ho iniziato quindi l'intenzione di finirlo c'è ma finirlo adesso cioè non di quelli tipo che leggo un capitolo e poi lo metto in libreria e me lo dimentico no questo lo voglio finire possibilmente entro fine mese beh che dire per la prima volta da quando faccio questo video hanno vinto i libri non letti un po' non me l'aspettavo devo dire pensavo di essere stata più brava di così invece siamo un 65 libri non letti contro 57 letti quindi non solo ho letto di meno di quello che compravo ma ho anche comprato di più mentre mi continuavo a ripetere sì sì voglio limitare gli acquisti pensa che cretina quindi ho comprato 122 libri che è più di quanto io abbia mai comprato negli anni precedenti e quindi per la prima volta la percentuale di libri letti scende al 47% contro un 53 di non letti va anche detto che quest'anno ho proprio letto meno in assoluto quindi veramente la situazione è tragica sotto ogni punto di vista sono un po' scioccata da questo risultato spero di recuperare al più presto appunto tutte queste cose che ho accumulato in libreria e magari smettere di comprare forse dovrei imparare dai miei errori adesso vado a nascondermi quindi per il video di oggi è tutto io spero che vi abbia fatto compagnia che vi sia piaciuto se è così ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti e noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video ciao 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 Grazie.